La 24esima edizione di Camò apre nuove professionalità, apre alla cultura con la direzione artistica del Sicilia di Moda, al regista e scenografo Manuel Giliberti e non si scorda del salotto buono della città. La novità dell'edizione 2013 più fashion di Fiere Maya dunque non mancano. Sin dalla sua giornata inaugurale si è presentata rinnovata. È un taglio nuovo di Camò, è una fiera di settore, un B2B, un fare commercio. In questo momento qua noi stiamo praticamente aspettando le offerte promozionali delle varie imprese che sfileranno. Un esempio è l'appuntamento con il primo momento di wedding planner, emozioni, fiori e matrimoni, allestimenti e creazioni con i flower design. A seguire l'evento che apre alla settimana della Moda e Vittoria Camò Fashion Show, in passarella all'alta moda, la sposa, lo sposo e cerimonia. La regia di questo primo evento porta già la firma di Manuel Giliberti a cui è stata affidata la direzione artistica. I riflettori non si accendono solo sulla città dell'Eferistica, ma anche sul salotto buono della città con il primo esperimento di Camò in Vie Cavour. Tre installazioni lungo la principale via del commercio, modelli di abiti esclusivi in passarella e modelle immortalate in quella che è considerata una delle più belle passerelle naturali che è appunto Vie Cavour. Shooting in città, questo è il termine tecnico che descrive questo primo esperimento a cura di Asa 25, che sarà possibile vedere nella mostra fotografica allestita in fiere maia e visibile sino a domenica 24 marzo.